Voglio condividere alcuni pensieri dal Vangelo di Giovanni, capitolo 20 e 21. All'inizio di Giovanni 20, leggiamo la prima mattina della risurrezione. Maria Magdalena arriva alla tomba, dove Gesù era stato messo, e la tomba era vuota. Dopo i discepoli, e loro sono tornati a casa, avendo visto che Gesù non c'era. Maria Magdalena è rimasta lì per piangere, e a un tratto, immaginate, ha sentito una voce dicendo, Maria, ha girato, era Lui, maestro, e tornato al paese, dicendo del Cristo risorto. Più tardi quella sera, i discepoli stavano in una stanza con le porte chiuse. A un tratto Gesù appare nella stanza. Tutti i discepoli erano, tranne Tommaso. Più tardi. Più tardi. Più tardi, Tommaso, quando ha sentito, non ci crederò, se non metto le mani nelle ferite sue. Oltre giorni dopo, Gesù appare di nuovo ai discepoli, e c'era Tommaso. Posso immaginare la scena. Il Signore guardò a Tommaso. I suoi occhi, prendendo gli occhi di Tommaso. Thomas, metti le mani. Thomas, metti la tua mano sul mio costato. Tu sareste ancora rimasto un Tommaso che dubitava. Thomas credeva perché aveva sperimentato. Ma noi dobbiamo prendere per fede. Questa è la trenta volta che Gesù era dimostrato. La quarta volta. La quarta volta. La quarta volta che vediamo a che appare. Pietro disse, Pietro e Tommaso, alcuni altri, i figli di Zebedeo, Zebedi vuol dire pescatori. Alcune famiglie sono associate con certi lavori. E entrino nella barca. E hanno pescato tutta la notte. Capite? Era il loro mestiere di fare pescare. Sapevano come pescare. Now, if you were to go to the shores on the northern end of the Sea of Galilee, you would see a first century fishing boat. potessero vedere veramente una barca del primo secolo. Now, actually, that fishing boat would be just about this long. And probably as wide as from this rug to the end of the platform. Now, when you're saying seven or eight men are in a boat, that's a lot of men in a boat. But it was a big boat. It was a fishing boat. And this is a 2,000-year-old fishing boat. It very well could have been owned by the sons of Zebedee. Quella barca che hanno scoperto che c'ha 2 miliardi, poteva essere la loro barca. It very well could have been the boat that they were in. Forse quella in cui stavano. Well, they fished all night. In this boat. In quella barca. And they caught zero. E hanno preso zero. What? What? We're not catching anything. Non prendiamo niente. We're out there all night. Tutta la notte. This is our vocation. E' la nostra vocazione. We know how to do this. Sappiamo come fare questo. And all of a sudden. A voice. In un tratto. From the shore. Una voce dalla riva. Probably quite a distance away. Forse distante. Hollered out. Scrisse. Disse loro. Throw your net on the other side. And you'll get a catch. Metti la rete da l'altra parte della barca. Prenderete qualcosa. Now. I don't know. I think I would have reacted like this. Non so. Io avrei fatto così. Peter. Pietro. Who is this guy? Chi è quello? Who is this land lover? Chi è quello che sta sulla terra? Doesn't he think? Doesn't he know we know what we're doing? And I don't think that I'm going to tell this guy we haven't caught anything. How does he know we haven't caught anything? I don't want to say to him that we haven't caught anything. But they didn't say any of that. Ma non disse niente. They. They said. And they said. Va bene. Okay. Now you know. When you. Obviously when they threw it on the other side. They probably were not throwing it in the natural place. They probably were throwing it in the shadow of the boat. They knew how to fish. They knew what side to put it on. And they probably threw it in the side that it was wrong. Non era il posto giusto. Che c'era l'ombra. C'era qualcosa che di soli non si pescava da quella parte. Però ha detto così. L'hanno fatto così. But they threw it on the other side. Dall'altra parte. And they caught 153 fish. E hanno preso 153 pesci. And they started pulling that in. Hanno cominciato a tirare su. And can you get the picture when they were pulling it in? Capite? Mentre tiravano su i pesci. Who is this guy? Chi è quello? Well. All of a sudden. In un momento. Pietro si getta nell'acqua e comincia a nuotare verso la riva. The other ones in the boat were just a little wiser and they rode the boat in. L'altro erano un po' più saggi. Hanno rimato per arrivare lì. Circa 100 metri. Arrivato al suor arriva. E Gesù aveva preparato colazione per loro. Stava già preparando il pesce e ha detto portate altri pesci. Lui non aveva bisogno dei loro pesci. Non aveva bisogno dei benefici dei loro talenti. Il Signore utilizza quello che noi abbiamo. Vuole solo che lo serviamo. E loro mangiarono insieme. Mi piace alzarmi la mattina e trovare una collezione già fatta. Sarà stata una collezione. Poi guardava a Pietro e disse Adesso metto un po' di teologia a plu. Pietro Andiamo a fare una passeggiata. Avete capito i discepoli e i pescatori? E prende Pietro da parte. Pietro Pietro Do you love me? Do you love me? Pietro Pietro Ma certo I love you. Certo ti amo. Ti voglio bene. Ma disse I like you. Ti voglio bene come un amico. Second time La seconda volta Gesù Pietro guardami nei occhi Quando vuoi prendere attenzione con qualcuno Guardi And he said Peter Do you agapeo me? Dice Pietro Tu mi ami Con un amore Che si sacrifica? And agapeo means I love you With a Selfless All giving Kind of love Agapeo vuol dire Amare con un amore Che si sacrifica Che si dona All'altra persona Pietro Pietro risponde Sì Mi piaci Sì Ti amo Come un amico Ti voglio bene Come un amico Come un fratello Non so quanto tempo È passato Prima che Gesù Chi rese Per la terza volta Forse stavano Sì Forse camminavano Lunga la riva È una zona bellissima Per camminare Quella barca ormai Messa sulla riva Posso sentire il pesce Che cuoce sul fuoco Il Signore chiede una domanda Una delle cose Se tu sei una guida Stai sempre guardando Per qualcuno A cui tu puoi passare Il lavoro Qualcuno che può portare avanti Il tuo lavoro I tuoi desideri I tuoi progetti E in questo caso Era la chiesa E Gesù guarda Pietro Dice Pietro ma È vero che mi vuoi bene Anche come un amico Le prime due volte Ho usato la parola Agapao La terza volta Ma veramente Mi vuoi bene È vero Come un amico Almeno Questo che ha È stato un coltello Nel cuore di Pietro Il Signore aveva qualcosa Molto speciale Progettato per Pietro L'inizio della Chiesa La propagazione del Vangelo Nel mondo Stava sulle loro spalle E qualsiasi capo Qualsiasi guida E nessun capo Vuole passare L'autorità Il lavoro Ad uno che Dice così Ti voglio bene Come amico O se mi fa comodo O se mi fa comodo Andare in chiesa Ci andrò O se non ho qualcosa Più importante Posso leggere la mia Bibbia Forse pregherò Prima di mangiare Amore costa C'è qualcuno C'è qualcuno Chi è sposato Vedete Se sei sposato Ti piace stare Con lo sposo O con la sposa È un rapporto Tutto il giorno Tutta la notte Tutta la settimana Per anni Questo luglio Dove è mia moglie? Dove è? Eccola Alzati Alzati Eccola Mia moglie Mia moglie Veramente Amo questo Vieni qua Io farò tutto Per stare con mia moglie Se io andavo a casa Stasera Pamela Sto con te Per 15 minuti Dopo quello Sei per conto tuo Quello non è amore Quello è qualcosa Per convienza Quello è un amore Fileo Non un amore Agapeo L'amore Che Dio Voleva Che Pietro Avesse per lui Era quello Amore Di un rapporto Dove 24 ore Pregare Senza cessare Mai Non significa Che preghi 24 ore Al giorno Ma significa Che sei in Quella attitudine Quella relazione Che puoi parlare Con il Dio Quale tempo E come Capitolo 21 Finisce Il Signore sapeva Che Pietro Doveva andare avanti Molto tempo Per il Signore Più di altri E sarebbe stato Crocifisso Con la testa in giù A motivo Della sua fede Il Signore sapeva anche Forse Pietro ricordava Pochi giorni prima Pietro aveva rinnegato Gesù Non lo conosco Non è una domanda Importante Per Gesù Di dire Pietro Allora Ha rinnegato Gesù Tre volte Mi ami Terribile Per Pietro E Pietro Poi Gesù Chiede a Pietro Tre volte Mi ami Mi ami Come un amico Che si sacrifica Mi vuoi bene Come un amico A me E sapeva Che Pietro Doveva fare più Di andare A fare quello Che era comodo Pietro doveva Essere pronto A sacrificarsi Rapporto E Pietro Dice ma Allora Giovanni Dice Senti amico Non guardare a lui Io sto parlando Con te Come va Tu mi ami Con un amore Che si sacrifica E quello È stato un pugnale A cuore Pietro E spero che a tutti Noi arriva Il messaggio Che tipo D'amore Abbiamo Per Gesù Direi questo Dall'università Di Masters Che tipo Di amore Avete È un amore Che cresce Quest'estate Quando avrete Non avrete Tanti fratelli In Cristo Come sarà Starete Nella parola Di Dio Stavi Stavi Leggendo Romani Quando stavamo A Roma Che tipo Di amore Abbiamo Spero che Non sia Una cosa Conviente Ma lasciamo Che il Signore Ci parli Nell'altura Della Sua parola Lui vuole Parlarci E parla a Lui Nella preghiera Vorrei chiedere Questa domanda Io posso Parlare Con mia moglie Per ore Da quanto tempo Tu non parli Con tuo Dio Tramite Gesù Per ore Vorrei pensare Di quel tempo Col Signore Con la mia Adorazione Privata Deve andare Giorno Dopo giorno E il più vicino Che saremo Mai Al cielo In questa vita E quando noi Prendiamo Il nostro amore Che si sacrifica Per il Signore E ci incontriamo E ci incontriamo Col popolo Di Dio Nel giorno Nella casa Nella casa Nella casa di Dio Intorno Alla parola Di Dio Cantando La parola Di Dio Il più vicino Su questa terra Che possiamo arrivare E voglio dire questo Se non godi L'essere insieme Col popolo Di Dio La domenica Che cosa sarà Cielo E chiesa Per sempre E sempre E sempre Quello è il rapporto Che abbiamo Con Dio E forse Non fai parte Della famiglia Di Dio Se c'erano Tante vie Al cielo Fred lo direbbe Anche io direi Ma c'è solo Una via Il salario Del peccato È la morte Ma Il dono Di Dio È la vita Eterna In Cristo Gesù Nostro Signore Che Dio Ha così Tanto amato Il mondo Con Quell'amore Che si Sacrifica Che ha dato Su ogni Genito Figlio Affinché Chiunque Crede Lui Non perisca Ma Abbia Vita Eterna Fate parte Della famiglia Di Dio Se sei parte Della famiglia Di Dio Deve Di avere Un amore Che si matura Che si cresce Agapao Ti amo con tutto Il mio cuore Quello Cambierà come agisci Come vivi Come reagisci I tipi di amici I tipi di amici Che tu scegli Come tu agisci Al lavoro Come tratti La tua famiglia Un rapporto Con Una moglie Un marito È questo Dale La moglie Dà Il marito Dà E Dio Però Sta In cima Un triangolo E Dio ci Bene Tutti Quando Cerchiamo Di onorare Il Signore E Amare Lui Più E più Tutti i giorni Amen Preghiamo Padre Ti lodiamo Per questo Tempo Nella tua Parola Che tu Possa toccare I nostri Cuori Cambiarci Fare di noi Quello che tu Desideri Chiediamo Per persone Oggi Qui in mezzo A noi Che ancora Non hanno fatto Questo passo Di fede Che sono ancora Fuori La famiglia Di Dio Che per la tua Grazia Oggi Possono Aprire a te I loro Cori Ti prego Nel nome di Gesù Amen